Il grosso problema della crisi del settore edile credo che non si risolva facendo nuove edificazioni. Abbiamo visto che cosa è accaduto dagli anni 90 fino al 2008, abbiamo creato una quantità di cubatura enorme in venduta. Ad oggi il grosso delle imprese si trova con edifici costruiti che sono dei cadaveri perché nessuno li sta acquistando.